Ivorossi, candidato sindaco di Padova, quali sono i punti fondamentali del suo programma? Innanzitutto noi abbiamo delle priorità che sono quelle del lavoro, perché oggi abbiamo una situazione piuttosto delicata dal punto di vista occupazionale che riguarda sia i giovani che non trovano lavoro, stiamo parlando di numeri importanti, sia le persone che hanno perso il lavoro. Dobbiamo generare impresa affinché questo possa avvenire e questo significa far diventare la nostra città sempre più attrattiva, sempre più carica di servizi, insomma una città che offre maggiori opportunità. In questa direzione si dovrà muovere l'amministrazione pubblica come facilitatore assieme ad altri attori, penso all'università, alla Camera di Commercio. È finito il tempo in cui ognuno faceva per conto proprio, abbiamo bisogno di grandi processi di coesione. L'altra grande sfida ovviamente è quella della sicurezza, che è una condizione anche questa della crescita e su questo, soprattutto con le amministrazioni dello Stato, la Polizia e i Carabinieri, andrà fatto un lavoro sistematico in tutti i quartieri per garantire la sicurezza anche alle persone, soprattutto quelle più indifese, alle persone più anziane, che sono quelle che soffrono di più questa condizione. Grazie.